Hai presente quelle cause legali che durano anni perché la vendita è saltata per un problema sui documenti del venditore? Se sei una persona attenta e vuoi evitare questi rischi, assicurandoti una vendita tranquilla e senza intoppi, il servizio di tutela tecnico-legale è ciò che fa per te. A differenza dei classici controlli che fanno la maggior parte delle agenzie mobiliari, ti offriamo un servizio completo che ti farà sentire protetto durante tutta la trattativa, evitando imprevisti e rispettando i tempi richiesti dagli acquirenti. Ci occupiamo di tutto, coordiniamo specialisti per raccogliere tutte le informazioni legali, fiscali e tecniche necessarie. Avrai una relazione di due diligence che ti mostrerà esattamente cosa serve per vendere la tua proprietà senza sorprese. Questo rende la tua casa più appetibile per acquirenti di alto standing, che si sentiranno sicuri nell'investire in una proprietà con documenti chiari e in regola. Proteggiamo anche la tua privacy. Grazie a un'attestazione scritta da un notaio e un tecnico, i potenziali acquirenti riceveranno solo informazioni essenziali, evitando di rivelare dati non pertinenti. E la parte migliore, il costo del servizio sarà rimborsato al premio provvigioni una volta che la tua proprietà sarà venduta. Non lasciare no al caso. Contattaci oggi e vendi la tua casa con servizio e sicurezza.